ANSA, Taranto, 10-8, Arcelor Mittale Governo abbiano ben chiaro che i lavoratori, e il sindacato non permetteranno ulteriori rinvii in termini di garanzie ambientali, occupazionali e di diritto per il futuro, rifiutando logiche di possibili scambi sulle modalità, e le tempistiche del risanamento ambientale legato alla salute dei lavoratori, e della comunità tarantina e ionica. È quanto scritto nel documento unitario diffuso a conclusione del Consiglio di Fabbrica dell'Ilva di Taranto riunito oggi. È necessario che il Governo, e i commissari facciano immediatamente chiarezza sulle bonifiche affidate all'amministrazione straordinaria e su cosa dovrà essere fatto. Conoscendo le modalità con cui i lavoratori dovranno svolgere le stesse attività, e le dovute garanzie per il futuro. Abbiamo più volte in passato denunciato le carenza della gestione commissariale attuale, è detto, e continuiamo nel ribadire al Governo, che deve necessariamente cambiare rotta, dando soprattutto un segnale di discontinuità con il passato.